Tutto pronto per domani, festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. I preparativi iniziati venerdì scorso vedranno l'apertura dei festeggiamenti con la tradizionale cerimonia religiosa che si terrà in cattedrale celebrata dal Vescovo di Caltanissetta, sua eminenza Monsignor Mario Rossotto. Al termine della cerimonia proprio il Vescovo deporrà una corona dall'oro alla statua di Maria Santissima. Poco dopo Piazza Garibaldi si trasformerà in Pompieropoli. Un istruttivo e divertente percorso ad ostacoli per i bambini delle quinte classi elementari delle scuole cittadine che potranno inoltre vedere da vicino i mezzi dei Vigili del Fuoco.